Leonardo da Vinci, una figura emblematica del rinascimento italiano, è celebre non solo per le sue opere d'arte trasformative, ma anche per il suo eccezionale contributo nei campi della scienza, dell'ingegneria e della tecnologia. Tra le sue numerose curiosità, spicca la pratica della scrittura cifrata, una tecnica che Leonardo adottava per registrare le sue osservazioni e i suoi pensieri più innovativi. Questa modalità di scrittura, che prevedeva l'utilizzo di una scrittura speculare, richiedeva di scrivere da destra verso sinistra, con lettere invertite, come se fossero riflesse in uno specchio. Leonardo credeva che questo metodo non solo proteggesse le sue idee dall'essere facilmente copiate o sottratte dai rivali, ma rappresentasse anche un'esercitazione mentale che stimolava il pensiero critico e la creatività. Esempi notevoli di questa pratica possono essere rintracciati nei suoi celebri codici, come il codice Arundel e il codice atlantico, dove Leonardo annotava tutto, dalla botanica, alla meccanica, fino a complesse teorie sull'aerodinamica. L'adozione della scrittura speculare da parte di Leonardo non era un mero espediente per confondere i lettori occasionali. Era piuttosto un riflesso del suo approccio globale al sapere, che univa arte, scienza e tecnica in un unico, grandioso disegno intellettuale. Oltre a questo metodo, Leonardo usava una varietà di codici, abbreviazioni e simboli per mascherare ulteriormente le informazioni contenute nei suoi scritti, rendendo la decifrazione un vero e proprio enigma. Un esempio lampante di questa pratica si trova nei suoi studi anatomici, dove combinava osservazioni dettagliate con note criptiche che descrivevano le funzioni dei vari organi e sistemi, del corpo umano. Questi scritti non solo dimostrano il suo acuto senso dell'osservazione ma rivelano anche la sua cautela nel divulgare scoperte che avrebbero potuto attirargli accuse di eresia. La decifrazione degli scritti cifrati di Leonardo ha aperto nuove prospettive sulla comprensione del suo genio e delle sue anticipazioni scientifiche. Attraverso la lente dei suoi codici si è potuto scoprire che Leonardo aveva concepito idee e invenzioni che sarebbero state compresse e valutate, adeguatamente solo secoli dopo la sua morte. Le sue riflessioni sull'aerodinamica, ad esempio, anticipano concetti che troveranno conferma nelle leggi della fisica moderna. I suoi studi sul flusso dell'acqua prefigurano la scienza idrodinamica. Questi scritti non solo evidenziano la sua incredibile capacità di osservazione e la sua immaginazione senza limiti ma offrono anche una testimonianza diretta delle metodologie di ricerca e di studio del Rinascimento, un'epoca in cui il sapere era in piena ebollizione, ma ancora intrappolato in schemi tradizionali. Il processo di decifrazione degli scritti di Leonardo rappresenta una sfida continua per gli studiosi. Ogni passo avanti nella comprensione di questi testi richiede una combinazione di competenze che vanno dalla paleografia alla criptografia, dalla storia dell'arte alla scienza. Un esempio significativo di successo in questo ambito è stata la recente interpretazione di alcune delle sue note sugli specchi ustori, che hanno rivelato dettagliate descrizioni di esperimenti e teorie sulla concentrazione della luce solare per fini pratici e scientifici. Queste scoperte non solo arricchiscono la nostra comprensione delle capacità inventive di Leonardo ma stimolano anche un rinnovato interesse per le sue opere, spingendo alla realizzazione di esperimenti moderni basati sulle sue teorie. Lo studio degli scritti cifrati di Leonardo da Vinci ci lascia con un'eredità di inestimabile valore. Questi documenti non solo ci permettono di apprezzare la profondità e la varietà del suo genio ma ci insegnano anche l'importanza della curiosità insaziabile, della ricerca continua e dell'integrazione tra discipline diverse come chiavi per l'innovazione e la scoperta. La vita e le opere di Leonardo rimangono una fonte di ispirazione per chiunque si avvicini al mondo dell'arte, della scienza o della tecnologia, ricordandoci che i limiti della nostra comprensione sono spesso confini che noi stessi ci imponiamo. La decifrazione dei suoi scritti cifrati continua a essere un viaggio appassionante nell'ingegno umano, un viaggio che ci insegna a guardare oltre il visibile, a interrogare l'apparentemente ovvio e a immaginare possibilità che vanno al di la dell'immaginabile.